ma benvenuti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale oggi siamo qua di nuovo col cecosco levander e oggi abbiamo basta abbiamo come ospite sociale il buon mark e noi andiamo a giocare col cecchino anche se siamo scarsi anche se quelli lì sotto i commenti scrivono questo e quello ma non me ne frega proprio un cazzo se no non portavo questa serie se non me ne frega proprio un cazzo comunque ci troviamo direttamente ragazzi alla partita bella eccoci qua ragazzi alla partita madonna guardate quel tag dai ma e pokemon go il primo e l'ultimo la partita 3 contro 4 speriamo che entri qualcuno cazzo ma col cecco quindi è per forza va bene se c'era uno alla finestra l'avevo già preso no ma dov'è che sono l'ho visto no ma c'è entrato lui bastardone è forte merda da la maiala a questi incominciano a correre sul muro è guarda la pistolina è che bello non mi sono neanche accorto che lo nemico ho tolto la mira poi mi sono accorto dopo che lo nemico ma era troppo oddio che qui ma come cazzo fanno arrivarmi sempre da di fianco a me o se prima eravamo a mostrare la medaglia adesso siamo in tre a mostrare ah ho capito questa questa l'ho capita vado ah ma non si può giocare una partita no che fei che ho fatto ok 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 l'ho visto ma vai a cagarò incomincia a connettersi la gente vaffan culo meno male ok vabbè però eh che cazzo eh ma non possibile che sparo uno e l'altro già mi va a prendere porco diazio che visto la testolina asgenommen madonna che pello io ho fatto i capelli va bene adesso sono nel nostro spawn mi fa piacere sto facendo 26 cazzo buono e hanno girato dai da dietro col tirapogli ho fatto non c'entrarlo perché sono scarso vabbè dai la torretta rinforzata hanno messo ok ma c'è la torretta adesso no hit marker di non scopo ma si può la porca troia ma perché faccio così pena con cecchini vabbè è partito colpo ma non l'ha fatto partire il gioco comunque market marker di non scopo no quello che mi chieda col tirapogli eh mi sono dimenticato che c'era la torretta ma fa niente ma va 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 che partitona che stiamo facendo mamma mia hai visto? 3-9 a che partita sì che noi che siamo forti cazzo cazzo sì facciamo questa partita con le armi non escono dallo spawn perché il cecchino non è un'arma eh vabbè mi viene da dire così non so perché a caso via con hit marker eh ma che palle bro ci hai invitato a imparare quella macchina da guerra oddio cosa ho fatto bene ho fatto una scivolata ho sparato e l'ho preso in no scu aiaia il buon mark ci delizia che cazzo fa quello oddio allora ho ricambeccato il negativo io però eh lo sapevo ci metto due secondi a andare di nuovo in negativo io UAB oddio oddio cosa mi hai preso no hit marker ok no mi ha cechinato vaffanculo a 200 punti dal talon sti cazzo va bene ma perché non gli ho fatto il no scope era meglio provare un no scope che un quick scope da lì è meglio chi l'ha vai oh bastardo beh io adesso sto facendo 22-17 ho leggermente migliorato mi ha fatto non entrare il colpo hit marker in quick scope ma vaffanculo eh che cazzo eh ah dove l'ha messo il bastardo mia torretta ma io non sto più usando il cerco io sì io sì sìream Per me la c'è con Sclerander Tu mi devi far compagnia Mark Ah ok Dai Come ha fatto a non entrare un colpo Uno sono sicuro di averlo preso eh Che gli faccia far collatera No ho provato uno scope Ma vaffanculo Ma beh dai Ma quello non è un fucile Da cecchino Il dracon Non è morto Hit marker Mark Hit marker L'ho preso sopra C'è in pratica quasi in testa Mori Ma basta la macchina Ma basta la macchina Se incomincia quel momento Dove non riesco più a killare Vabbè Finita così Che dire Ma è buona dai 26-24 Si va leggermente a migliorare Col cecchino Spero che questo video Vi sia vincito ragazzi Riesciate un bel like Se volete altri video Col ceco Sclerander E altri video con Il buon Mark Di compagnia Iscrivetevi al canale Se siete ancora iscritti E ci vediamo Per questo video Bella bella ragazzi Grazie a tutti